Tornano a far sentire la propria voce i residenti di San Silvestro Spiaggia a Pescara sui disagi alla viabilità creati dal nuovo svincolo dell'asse attrezzato. In una lunga lettera indirizzata al sindaco di Pescara Carlo Masce, per conoscenza al prepetto Ferdani, al comandante della polizia locale Palestini e agli assessori Orte e Sulpizio, il comitato spontaneo di cittadini di San Silvestro Spiaggia, dopo aver ripercorso da un punto di vista cronologico Tutti i passaggi relativi alle loro perplessità evidenziate all'amministrazione comunale ribadisce le proprie richieste per cercare di far fronte ad una situazione divenuta sempre più insostenibile secondo il loro giudizio. Tra le principali richieste avanzate nella lettera figurano l'installazione di attraversamenti podanali rialzati su via De Lollis e via Luciani come quelle installate nella vicina via Celommi, nonché la segnaletica con limite di velocità 30 km orari per la sicurezza delle persone nelle vie sopra menzionate e la disposizione di telecamere per il rilevamento dei limiti di velocità o dissuasori di velocità. Ma intanto a preoccupare in questo momento è la circolazione del traffico in via Pantini e strada della Bonifica dopo l'accorpamento degli ultimi comparti della pineta d'Annunziana così come evidenziato dall'ex consigliere di circoscrizione Antonio Taraborrelli. Sono un po' più preoccupato per la zona di via Pantini, per questo nuovo dirottamento della strada e per tutta la viabilità che poi andrà a interessare l'ex tratto di strada della Bonifica e via Silone, via Antonelli dove ci sono anche due scuole medie. Le mie preoccupazioni riguardano peraltro molto di più quella zona. Lì si potrebbe creare un imbuto, avrebbe un effetto deleterio sulla viabilità soprattutto nelle ore di punta. La nuova via Pantini così come è adesso è molto più stretta rispetto alla vecchia via della Bonifica, strada della Bonifica. Ora insomma mi chiedo poi quando si dovranno incrociare due mezzi pesanti, due pullman, due macchine più voluminose, che cosa potrebbe accadere? Ma insomma sono dubbi legittimi.